Oh, qua, off, in, off, qua, off, 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 off. A Natale, regalati un bracciale bandola, con il tuo primo bracciale, per te, un gioiello del regalo. Scopri i comic nei negozi Pandora e nelle migliori gioietterie. A Natale la cosa più bella è circondarsi di persone speciali. Per Anna che ama la semplicità a Natale Gran Soleil al limone e il profumo dell'antogno. Per Giulia allegra e solare Gran Soleil al cioccolato, la dolcezza delle pere e una specie di zucchero a vetro. Per i tuoi cari Ferrero Gran Soleil, fresco e delicato. Ferrero Gran Soleil, prendi il tuo Natale e per le feste Gran Soleil al cioccolato in edizione limitata. C'è un giorno, anzi başka cámara Facebook Google 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 Google